Siamo con Stefano Tacconi, intervenuto al club Gaetano Scirea di Terranova. Mi fa molto piacere perché dopo 25 anni che ho smesso, credo che avere ancora l'affetto dei tifosi sia importante. Poi ho conosciuto un paese diverso dell'Italia, dove di solito vanno tutti all'estero a fare vacanze e non sanno cosa perdono in Italia. E non sanno neanche cosa perdono nella cucina calabrese. Adesso mi sono fatto ordinare pasta ceci e poi vediamo di continuare meglio. Grazie. 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 Grazie.